l'angolo vegetariano ovviamente è tutto chiuso, solo l'acqua è aperta eccolo l'angolo della frutta dessert ecco qua no ragazzi, questa carne è fantastica ecco qua è l'angolo salato ora cerco un attimo, eccoli là dove sono mia mamma e mio nipote e me ne vado al tavolo a mangiare il mio bellissimo dessert ovviamente il tavolo vista mare ovviamente lui è Emanuel saluta ecco qua e lei è mia madre e questo è il protagonista di tutta la settimana il mare un assicuratore è un солнetto di tutta la settimana è un luogo di tutta la settimana e non è un luogo di tutta la settimana